Nomad, sei uscito! Ricevo il tuo segnale forte e chiaro. Sembra che tu sia di nuovo tra noi. Trasmetto immediatamente le immagini a James Hawk. Vedo la luce del sole. Ci stiamo avvicinando al segnale. Sembra un'uscita, ma non posso avvicinarmi troppo. Siamo quasi nel campo visivo. Eccolo! Nomad, ci vediamo! Attenzione! Marta, mi hanno colpito! Nomad, sei ancora vivo? Sì, signore. Ma non so per quanto. E cosa sta succedendo lassù? Mi serve un quadro chiaro della situazione. Dovrei poterlo fornire, maggiore. Ma non so che cosa mi trovo davanti. Qualsiasi cosa sia, però, ci sono giusto nel mezzo. L'intera montagna è rinchiusa dentro una specie di sfera energetica. È un miracolo che tu sia ancora vivo. Stiamo evacuando tutti dall'isola. Ricevuto. Ho perso il contatto con una squadra di marine e le tue vicinanze. Vi trasmetto le loro ultime coordinate. Dai un'occhiata in zona. D'accordo. Ma dubito che qualcuno possa sopravvivere a queste temperature. Abbiamo creato un centro di evacuazione in fondo alla valle. Se trovi qualche superstite, portalo lì per il recupero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.